Il primo obiettivo? Allora, l'obiettivo centrale è veramente di migliorare l'esperienza del visitatore. Questo è una cosa assolutamente necessaria, perché non può essere che bisogna aspettare a lungo prima che si entra al museo. Ho detto questo anche già in passato e quindi questa è una cosa assolutamente da affrontare. Poi, una volta fatto questo, ci sono molte altre cose da affrontare. Anche per esempio non c'è un'eguaglianza di interesse tra i visitatori, tra gli uffizi e Palazzo Pitti. Palazzo Pitti ha alcune delle più famose opere della storia mondiale dell'arte e quindi poi di far partecipare di più Palazzo Pitti all'esperienza museale fiorentina, questo senz'altro è un altro obiettivo principale.